passerei altro giro altra corsa ad un altro tema ad un altro ospite ad un altro giornalista e collega Giovanni Sallusti che dovremmo avere in collegamento con noi buonasera buonasera grazie abbiamo sforato di qualche minuto però riprendiamo insomma perché anche con te ne ho di domande da fare caro Giovanni grazie a voi no poi c'era l'amico Magdi quindi ci mancherebbe altro allora Giovanni innanzitutto parliamo come stai intanto voglio chiederti questo come stai in questo venerdì santo ma sto diciamo abbastanza bene compatibilmente no col fatto che vivo nell'occidente politicamente corretto poteva comunque andarmi peggio perché potevo essere no in israeli o in ma diciamo ecco oggi sei andato in onda che tu sei il direttore di Radio Libertà sì 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 oggi oggi tra l'altro abbiamo Radio Libertà abbiamo nel nostro piccolo dato una notizia perché abbiamo intervistato uno degli studenti un ebreo americano che ha denunciato l'università di Harvard per antisemitismo che è una cosa che credo ha a che fare anche con quello di cui parleremo assolutamente sì e allora entriamo dunque nel vivo di questa di questa parte della nostra puntata parleremo con Giovanni del suo ultimo libro mi mancano i vecchi comunisti io quando l'ho letto ho letto il titolo ho detto forse non l'ha scritto Giovanni però poi leggendo il libro ho capito perché perché tu sei un libertario doc quindi leggere mi mancano i vecchi comunisti ho detto è successo qualcosa a Giovanni dici tu allora Giovanni di che cosa tratta questo libro perché è un po' una confessione inaudita assolutamente innanzitutto confermo che sto abbastanza bene dal punto di vista psicofisico diciamo non o non peggio del solito è assolutamente una confessione inaudita che ho fatto fatica a elaborare con me stesso per primo però una confessione che alla fine era era registrare una realtà la realtà è che di fronte alla sinistra i progressisti al mainstream moderno per capirci gretino arcobaleno fanatico di questa follia che si chiama cancel culture che è uno dei più grossi attacchi alla libertà diciamo mai concepiti nella storia di fronte a questo mix di diltantismo e intolleranza diciamo a posteriori ho rivalutato incredibilmente i vecchi comunisti cioè di colpo mi sono sembrata gente seria preparata e per quanto io li avrei combattuti diciamo culturalmente fino alla morte migliori di questi e oggi forse lei è un po' rivalutati allora facciamo così andiamo in pubblicità perché poi mi devi raccontare bene che cosa c'è scritto all'interno di questo tuo libro perché per rivalutarli non so se tu ti sia convertito credo di no conoscendo insomma il libertario che c'è in te però andiamo in pubblicità poi ci dedichiamo appieno a i comunisti o i vecchi comunisti una tua vecchia nostalgia bentornati per quest'ultima parte della nostra puntata venerdì santo stavamo parlando con giovanni sallusti del suo libro mi mancano i vecchi comunisti ci ha raggiunto anche fabio dragoni che abbiamo avuto proprio nella prima parte di puntata fabio ecco ti ti vedo buonasera a tutti allora io al centro con voi due di lato che sorridete non so se posso sentirmi tranquilla però proviamo devi devi allora giovanni stavamo dicendo che ti mancano di questi vecchi comunisti guarda forse lo spiego al meglio raccontandoti la prima volta che ho avvertito fisicamente la nostalgia dei vecchi comunisti avvenne durante la stagione delle sardine non so se ve la ricordate che furono un po' esatto furono un po' le prove generali dello schleinismo no furono elli schlein prima di elli schlein e quel giorno stavo facendo un pezzo per libero un pezzo abbastanza critico diciamo e mi imbattei nei curricula dei dei capoccia del movimento degli esponenti di spicco appunto santori e ancora e i curricula ora vado a memoria ma più o meno recitavano nel tempo libero tiene laboratori sul riciclo della plastica accompagnatore in ciclo percorsi istruttore di frisbee in quel momento mi è venuta un'immediata inaspettata ma ineludibile nostalgia dei vecchi comunisti cioè a meno della preparazione poi ovviamente ci ho ragionato e ho capito che questa nostalgia si sviluppa su tre fronti anzitutto i vecchi comunisti non rifiutavano la rivoluzione industriale anzi ne davano un giudizio positivo cioè non volevano le missioni zero il luogo d'elezione dei vecchi comunisti era la fabbrica e il loro tema d'elezione era il lavoro poi applicavano ricetti per me deliranti pericolose e anche che in realtà andavano contro l'interesse dei lavoratori ma non mettevano in discussione la produzione il fatto che produrre fosse un valore in secondo luogo i vecchi comunisti erano in realtà alla prova dei fatti se pensiamo alla storia del pc fino a berlinguer che all'inizio della fine dei grandi realisti politici mentre questi sono dei moralisti fanatici pericolosissimi in terzo luogo i vecchi comunisti non volevano sbaraccare la civiltà occidentale che è una quisquilla cui io terrei anzi pensavano di nuovo in modo arrogante totalitario ma di essere la vetta della civiltà occidentale addirittura cioè non avrebbero mai assalito i quadri del botticelli messo all'indice i classici della letteratura sospeso lo studio dei greci perché erano dei sessisti cioè non avrebbero mai fatto questa follia no e quindi alla fin fine mi manca un nemico con cui almeno si poteva battagliare ecco dici pericolosissimi ma più pericolosi di oggi di ultima generazione di questi ragazzi che per giustamente fare la loro battaglia però si mettono in mezzo alla strada facendo sì che i lavoratori non possono andare appunto sul luogo di lavoro più pericolosi di loro allora è ovvio che dove c'è stato il comunismo come dittatura erano più pericolosi nel senso che finivano i gulag cioè non sono completamente impazzito ma ma i grettini che che fermano il lavoro che che come dire beh oppure le follie per esempio ecco green che vengono dalla commissione europea l'attacco alla proprietà privata che va in scena con il new grid il cioè io ho scoperto per esempio nel libro lo riporto c'è un famoso discorso su di togliatti cioè il vecchio comunista per eccellenza su emilia rossa e ceto medio dove dice fa una descrizione del ceto medio artigiani piccoli imprenditori commercianti dice che è falso che i comunisti hanno un problema con questi ceti sociali quelli che oggi il pd definisce niente più ne meno che evasori e addirittura togliatti nel 46 dice l'iniziativa privata e sacra oggi qualunque membro della segreteria schlein farebbe una fatica dannata a firmare questa frase per dire l'idea dell'involuzione che nel frattempo si è sviluppata voglio farti una domanda perché hai citato berlinguer di cui tu parli anche nel nel libro di una sua intervista del 1981 che ha rilasciato a scalfari direttore fondatore appunto di repubblica dove lui dice che i partiti non fanno più politica ci sarebbe da dire forse ti chiedo oggi invece la fanno questa politica ma oggi i partiti della sinistra che la tradizione che io provo a sezionare in questo libro non la fanno più non la fanno più perché hanno seguito le parole d'ordine di berlinguer cioè berlinguer che è il santino del comunista buono no sicuramente una persona per bene un galantuomo un quello a cui tutti come dire no davanti a cui si tolgono il cappello ma in realtà berlinguer è l'inizio della fine perché berlinguer sollevando la questione morale e a ruota dicendo che i comunisti sono sostanzialmente moralmente superiori rivendicando una purezza dei comunisti che per esempio ha una follia secondo un tizio che si chiamava giorgio napolitano che all'epoca criticava berlinguer su questo berlinguer dicendo che il punto è la questione morale ha aperto la via al moralismo diciamo della ztl incarnato dal pd di ellis line e al moralismo qualunquista diciamo anticasta e meramente populista del movimento 5 stelle di politica non c'è più niente e questo lo dobbiamo berlinguer altro che comunista buono ecco quindi berlinguer che cosa direbbe del della schline di oggi del del partito del partito democratico di cui lei appunto è segretaria bene anche berlinguer riuscirebbe a farsi andare bene ellis line perché comunque insomma quantomeno c'era un fossato un fossato culturale via tra l'altro diciamo ellis line cosa ha fatto alle primarie ha vinto le primarie del pd grazie al voto di elettori non del pd diciamo grillini paragrillini estremisti della ztl movimentisti a vario titolo gretini di ultima generazione e invece chi è stato sconfitto l'ultima incarnazione non diciamo certo la più sfolgorante ma comunque una che quella che era l'ultima incarnazione della vecchia ditta che era stefano bonaccini e lì la parola fine e una serie di vecchi comunisti tra cui per esempio bersani che mi ha anche simpatico personalmente si sono incredibilmente suicidati sostenendo ellis line una cosa ai miei occhi ancora inspiegabile voglio far intervenire anche fabio su questo chiedendoti se ci sono ancora se c'è qualche reduce di vecchio comunista chi sono per te i comunisti allora innanzitutto saluto saluto giovanni ho cominciato a leggere il libro da quattro ore e lo trovo straordinariamente illuminante e gli suggerisco anche se secondo me ci ha già pensato un sequel per il suo libro mi mancano i vecchi liberali perché dico questo perché la parabola dei comunisti somiglia molto alla parabola dei liberali non a caso giovanni si definisce libertario non liberale e ci sarà un motivo poi cerchiamo di capire anche un po qual è la differenza ti faccio terminare appunto il tuo pensiero poi lo chiediamo a giovanni prego fabio ecco no dico due cose quello che dice giovanni è gravido e scrive gravido di conseguenze perché enrico berlinguer ha sdoganato per primo il concetto di austerità l'austerità era un mezzo per mettere in crisi il sistema e l'austerità è diventato diciamo l'architrade della politica economica di bruxelles in tutti questi anni quindi diciamo oggettivamente berlinguer è stato il padre di una degenerazione quindi so che non va di moda diciamo criticare berlinguer però bene molto bene fa giovanni a mettere in luce questo aspetto gravido di conseguenze e leggendo subito le prime pagine del libro di giovanni mi viene mi viene in mente una rigogliosa tradizione cinematografica dei vecchi comunisti ti faccio tre esempi la patata bollente film con renato pozzetto e massimo ranieri in cui renato pozzetto fa il comunista gandhi vero maschio vero maschio vero maschio che si trova un po in imbarazzo di fronte a massimo ranieri che invece gay te ne dico un altro sempre per rimanere in tema di berlinguer quando benigni non era il benigni zuccheroso e diabetico come ora ma era il vero benigni in berlinguer ti voglio bene che è un film terrificante perché veramente terrificante nel linguaggio mamma mia cioè ve lo raccomando a un certo punto sono in una festa dell'unità e dopo aver finito di giocare alla tombola dice compagni a inizio il culturale che sarebbe il dibattito pole la donna metti sia confrontarsi con l'uomo no ecco questo questi erano i comunisti di allora chiudo queste citazioni con ovo sodo ovo sodo di virzi quando a un certo punto dice racconta la storia della livorno comunista di quei tempi e dice a un certo punto il personaggio di virzi un un dubbio esistenziale di troppo o un congiuntivo usato perfettamente e venivi subito bollato come finocchio ecco questi erano i comunisti di allora confrontiamoli con quelli d'ora allora diciamo che non ti sei preparato chiaramente queste tre ipotesi va diciamo così insomma questi tre esempi che hai fatto torniamo però seri un attimino sul libro di giovanni perché lui tratta anche quello che è il tema anche del del sindacato no che che lui che tu citi caro giovanni perché uno degli elementi più sentiti del comunismo era appunto il lavoro quindi si facevano queste grandi battaglie per i lavoratori per cercare di non dico di di rimanere ma cercare di ricercare in qualche modo una un'uguaglianza o almeno una minore diseguaglianza possibile oggi noi abbiamo il sindacato e in quello della sinistra correggetemi se sbaglio insomma è quello della cgl con landini ti chiedo anzitutto se il sindacato di oggi tutela quelli che sono i lavoratori o si va come alcuni dicono verso la politica cioè il sindacato teoricamente dovrebbe essere in qualche modo apartitico quindi stare dalla parte di tutti i lavoratori per l'uguaglianza per il benessere e invece oggi sembra come alcuni dicono che i sindacati si dirigano verso ognuno per la propria retta della propria politica tu che ne pensi giovanni no sono d'accordo allora eh eh antitutto il sindacato odierno che poi rappresentato plasticamente dalla cgl alla landini tutela il non lavoro del venerdì e del lunedì in genere cioè lo sciopero del weekend lungo ora sembra una buttata ma guardate che a marzo ce n'è stato uno ogni weekend nel trasporto pubblico sì 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 no ma è un dato oggettivo è il non lavoro non è la capitale sì sì c'è stato un sciopero ogni venerdì quasi insomma almeno di mezzi e soprattutto rappresenta interessi che vanno contro i veri deboli svantaggiati odierni che sono partite iva autonomi eh eh persone contrattualizzate nei vari labili modi insomma non dipendenti pubblici tantomeno ma neanche privati che comunque come dire incandano in questo momento zone di privilegio ma eh per nel libro per mettere a tema tutta la differenza che eh è passata anche nella storia del sindacato io cito il caso di luciano lama stoico segretario della cgl che anzitutto fu cacciato dalla sapienza dal movimento del 77 no dall'avanguardismo gli indiani metropolitani dal movimento appunto del 77 eh cioè da persone che non avevano mai lavorato un giorno nella vita non avevano nessuna intenzione di lavorare che cacciarono luciano lama perché non avevano niente in comune con luciano lama e i padri della sinistra diciamo schleiniana di oggi stavano nel movimento non nel della cgl di luciano lama eh ma soprattutto eh ho riletto è veramente eh è istruttivo rileggerla oggi un'altra intervista che luciano lama desse a scalfari che era come dire un po' il deus es machina quindi tutti i leader di sinistra consegnavano le loro verità a scalfari ma l'intervista di lama è incredibile perché riletta oggi eh lama sarebbe accusato di turbo liberismo cioè dice delle cose che oggi neanche un conf industriale si può permettere anzitutto dice che il sindacato ha la priorità di contrastare la disoccupazione e che tutto il resto anche i lavoratori devono capire viene dopo eh di conseguenza eh difende il diritto delle aziende a licenziare eh è nero su bianco e lo dice il capo dell'allora cgl negli anni settanta eh e infine dice che la cgl è per il lavoro produttivo contro l'assistenza cioè queste tre queste l'assistenza come dire il re dell'assistenza in questo paese Giuseppe Conte no quello che ha distribuito eh redditi di cittadinanza eh eh come se piovesse in cambio di voti è quello con cui la sinistra di oggi vuole costruire il cosiddetto campo largo eh ebbene oggi lama sarebbe giudicato davvero un pericoloso eh liberista cioè eh pensate voi se Landini potrebbe mai difendere il diritto degli imprenditori di licenziare opporsi all'assistenza e dire che anzitutto è meglio averlo il lavoro poi dopo ragioniamo e c'è stato veramente veramente una una involuzione diciamo allucinante ma d'altronde io propongo questo esperimento nel libro eh se voi eh allora a mio giudizio il più grande peana mai scritto al capitalismo è il primo capitolo del manifesto del partito comunista di Marx sì è è una cosa ecco voi fate questo esperimento prendete leggete questo capitolo a un grettino o esponente di ultima generazione di oggi senza dirgli che è di Marx tanto lui non lo sa sicuramente glielo leggete gli provocherete una crisi reversibile di eco ansia cioè lo devono portare via in barella perché in quel capitolo Marx fa l'elogio eh anzitutto della borghesia capitalista che secondo lui ha realizzato cose mai viste nella storia dell'umanità della produzione dello sfruttamento intensivo della terra addirittura no cioè è è come dire è oggi sarebbe veramente eh collocato non so nell'estrema destra per il nero fossile cioè sarebbe una roba incredibile no e e e quindi capite che non è solo una questione del sindacato è una questione che proprio la cultura di riferimento della sinistra eh ehm si è spostata e per esempio su temi per me decisivi come la produzione e l'economia reale si è capovolta nel suo contrario. Ecco voglio riprendere un po' da te il il discorso e eh quanto hai appena detto cioè se Luciano Lama avesse detto oggi eh quello che ha detto un tempo e che oggi insomma sarebbe stato trattato diciamo così in malomodo vorrei entrare anche un po' per parlare del politicamente corretto allora e quindi anche di questa cancel culture anche appunto del del vuochismo e quindi qui voglio far intervenire anche Fabio perché comunque anche di politicamente corretto lui parla anche nel nel suo libro io appositamente non ne ho parlato proprio nella prima parte perché volevo godermi un po' questo confronto tra di voi sul politicamente corretto. Oggigiorno bisogna stare attento a tutto ciò che si dice perché se si dice una parola sbagliata apriti cielo succede l'inverosimile allora voglio chiedere a voi che cos'è oggi questo politicamente corretto come bisogna comportarsi cosa si può cosa non si può dire siamo in libertà siamo in democrazia ecco dove siamo finiti? Se la domanda è a me è una sorta di regresso quello che stiamo vivendo nel senso che ci sono tanti capolavori cinematografici che oggi non potresti più fare se pensi ad amici miei amici miei oggi sarebbe assolutamente impresentabile ma nello stesso Carlo Verdone ha parlato di patologia e Carlo Verdone comunque è un comico che viene da quel mondo e quindi dice così facendo non faremo più ridere lo dice a un certo punto Carlo Verdone. L'analisi che fa nel suo libro Giovanni riprende una tradizione molto come posso dire molto poco arata ma straordinariamente importante di critica all'involuzione del mondo comunista verso queste forme del politicamente corretto cioè in un certo senso Giovanni riprende l'analisi che faceva Pierpaolo Pasolini Pierpaolo Pasolini nel 76 aveva perfettamente compreso quello che sarebbe diventato il partito comunista forse non arrivava ad ipotizzare perché lui parlava così come Augusto Del Noce di un partito comunista che diventava un partito radicale di massa e quindi diciamo Giovanni attualizza quei pensieri che il genio di Pierpaolo Pasolini aveva già perfettamente compreso aveva già perfettamente compreso il tradimento che era in atto e quindi diciamo pensate a Pierpaolo Pasolini che nello scontro studenti poliziotti dice io sto con i poliziotti quindi già allora il politicamente corretto imponeva che si stesse dalla parte degli studenti cosa che Pierpaolo Pasolini si ben guardava dal fare quindi diciamo l'analisi di Giovanni merita di essere letta in controluce con questa attenzione ma ritorno sul tema di partenza cioè secondo me Giovanni voleva anche dire mi mancano i vecchi liberali perché la parabola involutiva che hanno avuto i comunisti nel trasformarsi in questa roba qui la stesso tipo di parabola hanno conosciuto volendo anche i liberali e ripeto non a caso Giovanni non si definisce liberale ci sarà un motivo per cui non lo farò. Allora apriamo una parentesi su questo no perché si parla di liberale libertario liberismo liberalismo Giovanni metti tu il puzzle a posto. Beh è un compito arduo perché il puzzle è completamente impazzito nel senso che io modestamente la cosa a cui tengo di più forse è la tradizione del liberalismo occidentale no se togliamo questa tradizione per me non ci sono grandissimi motivi per gustarsi l'avventura sul pianeta ma qual è il problema come giustamente diceva Fabio che ormai le parole sono evanescenti non rappresentano più dei significati dei contenuti storici cioè se noi pensiamo che oggi il gruppo dei liberali nel Parlamento europeo è forse tra i principali custodi al fieri di questa impostazione l'impostazione delle attuali istituzioni europee che è dirigista costruttivista nemica dell'economia reale intossicata da pesanti dosi di autoritarismo politicamente corretto e che cala da uffici di Bruxelles decisioni che devono valere dal nord Europa a Palermo c'è una follia se voi non a caso una liberale vera come la signora Thatcher urlò tre famosi no in faccia al presidente all'allora presidente della Commissione Europea Jacques Delors dicendo tutti i sogni che il Regno Unito rinuncia alla sovranità rinuncia alla libertà in nome di questo nuovo Soviet che voi volete allestare e purtroppo allora bisogna prendere atto che la parola liberale è violentata stuprata e quindi chi tiene a quella tradizione a maggior ragione non la deve usare più per questo io mi definisco libertario perché i liberali di oggi in questo senso ha ragione Fabio sono sfociati in un cortocircuito analogo a quello dei comunisti e probabilmente politicamente corretto è quello che tiene insieme tutto cioè quello che ha intossicato tutto io la cito molto nel libro perché secondo me è una delle vere chiavi che spiega questa follia la malattia che ha intossicato tutto quello che fosse il più grande filosofo conservatore diciamo a cavallo tra 900 e 2000 che era Roger Scruton chiamava oikofobia che vuol dire odio di sé sostanzialmente paura, vergogna della propria casa, della propria tradizione, della propria storia, della propria cultura e in questo senso e chiudo oltre ai film che ha citato Fabio io nel libro racconto come i manifesti elettorali della campagna elettorale del PC nel 1948 voi sapete la campagna decisiva cioè dove c'è uno scontro di valore totale est e ovest, Stati Uniti, non i sovieti eccetera quei manifesti oggi sarebbero sicuramente censurati non se li può permettere nemmeno Fratelli d'Italia ne cito solo uno uno dei manifesti di punta del PC in quella campagna aveva lo slogan per la difesa della famiglia e raffigurava stilizzati la figura di un uomo di una donna e di un bambino ebbene sì una bieca e razionaria famiglia eterosessuale o cisgender o non so che neologismo abbia inventato mezz'ora fa la neolingua politicamente corretta e sullo sfondo c'erano la fabbrica e il campo arato cioè la famiglia tradizionale e il lavoro vero, concreto, manuale e oggi quel manifesto sarebbe non avrebbe davvero diritto ai cittadinari allora dobbiamo chiudere però adesso non me ne voglia la regia vi faccio un'ultimissima domanda telegrafici però dovete rispondere a chi vuole cancellare la nostra cultura perché noi abbiamo avuto un passato un passato che insomma ci ha reso forti ci ha reso orgogliosi di essere dell'Italia altre volte ci sono state nel passato ovviamente degli episodi che sono andati un po' meno bene vedasi appunto tra un po' la seconda guerra mondiale o poco prima però insomma il nostro passato ci ha resi quello che siamo oggi a chi quindi vuole cancellare la nostra cultura che appunto ci ha reso quello che siamo oggi quindi dobbiamo essere anche in qualche modo orgogliosi però di essere italiani che cosa rispondete? Fabio Giovanni che i popoli per quanto sforzo facciano per negarne l'esistenza i popoli e le nazioni esistono e combattono insieme a noi o contro di noi o per noi scegliete voi la preposizione che meglio credete però se ci fate caso tutta l'ideologia europeista si basa sul costruire il nuovo uomo europeo costruire l'Europa come super stato perché le nazioni e quindi i nazionalismi sono brutti e cattivi questo è un rinnegare le tradizioni quindi bisogna tenersi ben stretta la nostra diversità di lingua la nostra diversità culturale perché quello che piace ad un turista americano che arriva in Europa è proprio questo fare qualche centinaio di chilometri e sentire parlare francese, italiano, spagnolo, tedesco e così via e questa è la bellezza di questo continente la diversità non dobbiamo essere tutti uguali non vogliamo Certo nella nostra diversità dobbiamo essere orgogliosi anche di questo Giovanni 10 secondi Guarda io a chi vuole cancellare la nostra cultura dico se non si è reso Winston Churchill nel 1940 quando davvero la nostra civiltà sembrava prossima alla fine e poi ha vinto non si è reso e ha vinto ecco tutti quelli che non vogliono rinunciare a quella cosina che si chiama occidente non devono arrendersi perché se non si è reso lui non abbiamo diritto di arrenderci noi Perfetto io chiuderei con Winston Churchill ovviamente chi è curioso poi si andrà a studiare la sua storia e quello che ha fatto appunto e che c'è scritto anche su tutti i libri di storia io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi Fabio Dragoni giornalista della verità Giovanni Sallusti con il suo libro Mi mancano i vecchi comunisti Fabio Dragoni anche insomma con il suo ultimissimo libro per non morire al verde io vi auguro tantissimi auguri di buona Pasqua a te caro Fabio Giovanni ma anche a tutti i nostri telespettatori noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo mi raccomando sempre qui canale 122 del Digitale Terrestre venerdì ore 21 e 30 23 e 30 circa grazie a tutti per averci seguito buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti